Con la giunta a Quaroli i cantiere e investimenti non si fermano. Oggi siamo sulla strada statale 73 bis all'altezza del comune di Colli al Metauro. Investimenti per 2,5 km di risanamento profondo in questo tratto di strada a cui si aggiungeranno a settembre un altro chilometro e 800 metri. Che cosa significa risanamento profondo? Stiamo facendo quello che non era stato fatto nei decenni passati, ossia andiamo a fondo per 60 cm e ripresigniamo in fondo con calce, cemento e terreni. Lavori che possono essere fatti solo d'estate perché possano durare decenni. Lo stiamo facendo perché questo è il nostro obiettivo, fare lavori concreti che rimangano nel tempo. Ma con grande attenzione anche per il turismo. ANAS ha accettato il nostro cronoprogramma, sospendere i lavori durante i picchi turistici che riguardano questo territorio, con le nostre bellissime spiagge che stanno alle mie spalle. Quindi in questo fine settimana i lavori saranno sospesi, riprenderanno la prossima settimana, per poi sospendersi per tutto il periodo festivo e riprendere a settembre. Allora abbiamo investito in questo territorio, stiamo investendo in questo territorio, da Fano fino a Cagli, Cantiano, Gubbio, oltre 115 milioni di euro di investimenti. Un investimento che nella nostra regione e in questo territorio non c'è mai stato sulle nostre strade. Allora con le infrastrutture sblocchiamo le marche, le infrastrutture sbloccono le marche e rilanciano la nostra economia.